E allora, siamo stati accontentati, riusciamo a vedere un po' di voli di paramotore, questo mezzo semplice per volare. I motori del paramotore sono a due tempi, la loro cilindrata è compresa tra gli 80 e i 250 cilindrugici, in grado di esprimere potenze che vanno dai 13 ai 20 cavalli, dai 13 ai 20 HP. La spinta statica è compresa tra i 30 e i 40 kg, esiste anche un'altra versione del paramotore, ovvero il paracarrello, perché anziché, per chi non è possibile essere una piaccia correndo utilizzando le gambe, ci sono anche le versioni con il correndo, con le ruote, e questi vengono solitamente utilizzati per dei decolli, da delle superfici piane, possibilmente in erba, da campi in erba, e poi viene utilizzato anche il paracarretto. Abbiamo un po' di traffico aereo, cominciamo ad avere un po' di traffico aereo qua sopra. La spiaggia sarà così, però oggi abbiamo visto una specie di piccolo slalom, ci raccontava poco fa Antonio, della regionale italiana filozzi di paramotore, che tra le varie figure e tra le varie prove che vengono fatte, è una delle più nuove, una delle novità di questi ultimi anni, è anche quella di fare dei veri e propri slalom con il paramotore, e proprio così... Allora, intanto avete visto anche qualche passaggio molto vicino... Grazie. Grazie.